C'era una volta un paese di soli tre abitanti, almeno in apparenza, e, come si dice, le apparenze ingannano. Nel paese di soli tre abitanti vi erano ricchezze naturali, completamente a disposizione degli abitanti. Acqua, terra e aria, per citare le tre che mi sovvengono. Una volta all'anno i nostri si riunivano per celebrare tali gratuiti doni della natura. La sola res pubblica, ovvero cosa pubblica, che andrebbe davvero festeggiata. Col tempo, come spesso accade nelle umane esistenze, la lieta convivenza tra i tre iniziò a vacillare, per una ragione tra le più prevedibili, soprattutto scorrendo, al contrario, il libro della storia con la S maiuscola. Uno degli abitanti si svegliò un bel mattino sentendosi il gigante dei suoi sogni, prese fiato e informò gli altri due della novità. Da oggi io sarò il guardiano dell'acqua e la difenderò con pugnali, pistole e fucili. Gli altri ritennero l'idea sensata, vista la preziosità del dono. Quindi approvarono senza discutere, soprattutto innanzi la più convincente delle argomentazioni del primo. Pugnali, pistole e fucili. Tempo dopo capitò l'inevitabile, soprattutto leggendo, all'inverso, il racconto della cosiddetta evoluzione umana. Uno degli abitanti, un altro, si alzò una mattina desideroso di non essere da meno del primo. Si fece coraggio e annunciò. Da oggi io sarò il guardiano della terra e ne sorveglierò i confini con frecce, lance e mitragliatrici. Gli altri non ebbero nulla in contrario, dato il valore del dono. Perciò consentirono senza protestare, soprattutto di fronte alla più persuasiva delle argomentazioni. Frecce, lance e mitragliatrici. Non trascorse tanto tempo affinché il copione si completò, più che mai assistendo, arritroso, allo spettacolo delle umane miserie. Uno degli abitanti, il terzo, si levò dritto all'alba e, bramoso di emulare, gli altri due esclamò. Da oggi io sarò il guardiano dell'aria e la proteggerò con asce, bombe a mano e bazooka. Gli altri non ebbero nulla da ridire, consapevoli dell'importanza del dono. Pertanto lo assecondarono senza obiettare, soprattutto udendo la più efficace delle argomentazioni. Asce, bombe a mano e bazooka. Malgrado tali presunte, coraggiose assunzioni di responsabilità, i nostri non persero l'abitudine di celebrare la fondamentale festa. Della res pubblica. La cosa pubblica. La sola degna di questo nome. Acqua. Terra e aria. Non di meno, in una sorta di proprietà transitiva dell'idiozia, si convinsero che ciò che andava festeggiato non fosse la cosa pubblica. Bensì le più convincenti, persuasive ed efficaci tra le argomentazioni. Pugnali, pistole, fucili e tutto il resto. C'era una volta un paese di soli tre abitanti che celebrarono la festa della cosa pubblica, ovvero delle suddette argomentazioni. Col tempo perpetrarono in sì fatto modo tale tradizione poiché i tre si resero conto che la cosa pubblica apparteneva a molte più persone. Come si dice, le apparenze ingannano, o se lo fanno. E che fare i guardiani del mondo sarebbe stato l'unico modo per ammirare la festa dal palco più in alto.